È una malattia per la quale non esiste ancora l'obbligo del vaccino ed è tuttora una delle infezioni più comuni che colpisce adulti e bambini. La varicella si manifesta attraverso la classica comparsa di numerose chiazze rosse in rilievo, dette papule, che evolvono rapidamente in vescicole distribuite un po' su tutto il corpo, in particolare nel volto, nel cuoio capelluto, nel torace e nel dorso. Non appaiono tutte insieme ma piccole ondate distanziate di qualche giorno l'una dall'altra. Questa manifestazione è preceduta da un periodo di incubazione di 14 giorni, mentre rimane contagiosa nei due o tre giorni, prima che si esterni e nei cinque successivi, cioè fino a quando tutte le lesioni vengono ricoperte da una crosticina. Il picco di incidenza invece si verifica nel tardo inverno e all'inizio della primavera, così come è accaduto anche nella scuola materna statale di Cucurano di Fano. Sì, abbiamo avuto dei casi, soprattutto nel mese di gennaio e il mese di febbraio, forse un numero più elevato rispetto agli altri anni, ma per noi che operiamo nella scuola dell'infanzia oramai è un periodo quasi naturale avere un calo di assenze, sia per l'influenza sia quest'anno anche per la varicella. In questa scuola dell'infanzia inoltre non ci sono state particolari fasce di età maggiormente colpite. Noi qua siamo tre sezioni e sono state colpite in linea di massima quasi tutte e tre le sezioni e tutte e tre le fasce di età, dai 3 ai 6 anni. A parlarcene nei dettagli invece un pediatra di famiglia dell'area Vasta 1, nonché componente della segreteria provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Roberto Budassi. È in corso effettivamente un'epidemia, un'epidemia importante, non è un'epidemia devastante, però è un'epidemia che ha i suoi numeri. Io un anno fa, un paio d'anni fa, avevo fatto una piccola indagine sui miei casi, in 10 anni avevo visto qualcosa come 670 casi, quindi diciamo una media di circa una sessantina all'anno. Adesso per avere una proporzione gli ultimi tre mesi sono stati 40 casi, quindi effettivamente l'epidemia c'è. Tutte le classi dei bambini più piccoli, se entra il virus, ovviamente il virus è estremamente contagioso, quindi si trasmette e in breve tempo, nel giro di qualche settimana, al massimo qualche mese, li batte quasi tutti. E nel caso in cui dovesse essere contratta da un adulto o da una donna in gravidanza? Questo è il grande problema. Fra gli adulti noi potremmo trovare più facilmente delle persone che si trovano in una situazione di rischio per la varicella. Pensiamo a tutti quelli che sono immunocompromessi, che fa terapie contro malattie tumorali. E una categoria molto particolare è appunto quella delle donne in stato di gravidanza, specialmente se hanno dei figli suscettibili. La varicella può essere pericolosa per il feto, ha proseguito il dottor Budassi, in particolare quando viene contratta dalla madre nei primi mesi di gravidanza oppure nei giorni antecedenti o successivi al parto. La prevenzione è fondamentale perché la varicella non ha una vera terapia. Come tutte le malattie virali esistono dei farmaci antivirali, ma su questi noi non possiamo porre tutte le nostre speranze. Le speranze maggiori sono quelle della vaccinazione. Vanno protetti e vaccinati tutte le persone, prioritariamente tutte le persone che possono essere a rischio. E successivamente tutta la popolazione generale, partendo dai bambini in avanti. A tal proposito è appena uscito un nuovo calendario vaccinale, proprio un mese fa o anche meno, da parte della regione Marche, che pone appunto l'accento soprattutto nelle donne in gravidanza, soprattutto l'offerta attiva a livello dei bambini di un anno, ai bambini che fanno le vaccinazioni dei 5-6 anni e di tutti gli adolescenti che sono, diciamo dai 12 ai 14 anni, ma anche fino ai 18, che hanno un'anamnesi negativa, che non si ricordano di averla avuta e che non sono stati vaccinati. Com'è la situazione invece a Villanova? Adesso al momento diciamo che si sta attenuando il fenomeno, però fino a 20 giorni fa era da considerarsi, credo, una vera e propria epidemia. Tant'è che c'erano anche classi della scuola materna, proprio decimate. Meno casi invece sono stati registrati tra i piccoli alunni della scuola comunale dell'infanzia Alessandro Gallizzi. Noi non abbiamo riscontrato una grossa percentuale di bambini che sono malati in questo periodo. Secondo me negli ultimi anni c'è stato anche un'alta percentuale di bambini e di genitori che decidono di vaccinare i loro bambini contro le maggiori malattie infettive. Il breve periodo che precede la comparsa dei sintomi può essere caratterizzato da febbre, perdita di appetito, leggera tosse e malessere generale, ma anche da un prurito più o meno intenso e fastidioso. Per la varicella, escluse per le manifestazioni molto gravi o situazioni a rischio, non c'è molto da fare se non lasciare sfogare completamente la malattia, alleviando come si può quelli che sono i disturbi da essa provocati. Quali sono i prodotti? I prodotti che possiamo usare sono delle pomate antivirali come può essere la ciclovir, la ciclovir crema che è da mettere sulle vescicole, ovviamente stando attento a non toccarle, a non romperle perché poi rischi che rimangono delle cicatrici. In più ai bambini per togliergli un po' il prurito si possono dare delle gocce di antistaminico, appunto somministrate due o tre volte al giorno e possono un pochettino togliere il fastidio, il prurito. E in più cercare di farli grattare il meno possibile, quindi anche usare dei guantini di cotone, perché i bambini poi tendono a grattarsi e questo poi gli potrebbe lasciare dei segni per sempre.